salve fungaroli accaniti del lazio vi ricordo ancora una volta ovviamente scrivetevi seguiteci mettete mi piace interagite col gruppo perché per noi è veramente tanto io ho appena lasciato ovviamente mia moglie a casa che stavamo facendo un giretto insieme ma non soddisfatto ho detto devo togliermi una curiosità non ho avuto un altro posto e infatti non mi sbagliavo guarda che fiori guarda che fiori guarda che fiori guarda guarda tiè lì sotto qui è pieno devo stare attento a due cammino perché è pieno ma sotto ci sta ancora ecco qua ecco qui qua una bella buttatina vediamo un po più avanti perché non mi sono ancora spinto ho intravisti e mi sono fermato proprio eccoli qui bellissimi bellissimi facciamo sto zoom eccoli qua canterellus ferruginates aspettate che cerco di distrigarmi in mezzo a sto campo minato dei galletti tiè non so finiti non so finiti non so finiti ma proprio per niente non so finiti questo questo è allucinante questo è un galletto allucinante guarda che roba bene benissimo aspettavamo con ansia un po di galletti inizio a raccogliere perché starò un'ora con la schiena una piegata buona giornata fungaroli e buona raccorta a tutti guarda che Grazie.